È arrivato il momento, Silvia Semeraro è ufficialmente qualificata per i giochi olimpici di Tokyo 2020 che poi è 2021 ha un argento, però prima ti ho sentito che non ti accontenti di questo argento Beh sicuramente sono stracontenta per aver preso questo pass che era la cosa principale però certo non mi accontento, volevo far sentire l'inno di Pameli e portare a casa quest'oro però sicuramente lo prenderò Tokyo perché adesso si decolla e non si molla una settimana, due di recupero per poi ripartire più forti di prima e puntare alla medaglia più importante Ti abbiamo visto sul pezzo fin dall'eliminatoria, l'hai vinte tutte, hai perso una sola sfida nel round robin La volevi questa qualificazione? La volevo, la volevo dopo, io sono stata ferma un mesetto e mezzo per un infortunio al ginocchio ma al di là di questo la volevo perché ho fatto tanti sacrifici da quando sono piccola e potermi giocare e aver avuto la possibilità di giocarmi questa qualifica dovevo mettercela tutta e non potevo farmela sfuggire, la volevo a tutti i costi quindi sono veramente contenta di questo, veramente tanto Adesso sarà un'Olimpiade con le migliori atlete della tua categoria qua abbiamo già avuto un piccolo assaggio, se ne aggiungeranno altre aspirazioni sì, l'hai detto tu, è l'oro, confermiamo? sì, sì, confermiamo, lì saremo di meno rispetto a qui ma comunque sarà una gara difficile da gestire anche soprattutto di testa, però bisogna divertirsi perché siamo le migliori e ce la giocheremo al meglio io soprattutto